Sonatina sui tasti neri, perché era fatta tutta sui tasti neri del pianoforte, scritta dal maestro Pippo Caruso. Spaccaguina! 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 Grazie a tutti. Pippo Caruso. Avete visto come la televisione non si inventa niente sostanzialmente. Il musichiere. Il gioco del musichiere c'era lì, con Massimo Ranieri e Claudio Villa che facevano la gara.